Ma che stai a mangiare? Che stai a mangiare? Un biscotto e un caffè Questi? E questi? I biscotti? Ma sei sempre a mangiare, fammi capire A mangiare la carta della caramella Ma oggi è Sant'Ubaldo, sapete? Chi è Sant'Ubaldo? Un po' io Adesso piove non ci potremo andare, ma te ci porto Io ci voglio andare Appena si rimette andiamo a Gubbio E a trovare amico mio Amico tuo, andiamo a Sant'Ubaldo L'altro giorno ho fatto un video su TikTok Dove cercavo di spiegare a mio nonno Dropshipping Chiaramente non credo che ci sono riuscito Se volete andatela a vedere Però il modo più facile per capire questo mondo È seguire Luca Ve lo taggo qua E non ve ne pentirete Però ve lo vedo impegnato Perché dal niente non viene niente Comunque ve lo taggo qua E poi andate a vedere anche il video su TikTok Per chi non l'ha visto Grazie